Uscire dagli uffici e dalle sedi per andare ad incontrare lavoratrici e lavoratori ed essere a disposizione per chiunque ha bisogno di tutele e chiede rispetto dei diritti. La Fly CGL rilancia, venerdì prossimo, alle 17, sarà a Gela, in Piazza Umberto Primo. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Ci mettiamo le tende. La tenda significa casa di accoglienza, una casa comune. Le tende rosse saranno una nuova casa del popolo per chi sente la voglia e il bisogno di confrontarsi, di far uscire dall'invisibilità i problemi di chi vuole stare con la CGL per trovare sostegno e risposte. L'organizzazione sindacale mette le tende là dove ci sono i problemi che riguardano il lavoro, il territorio, la tutela della salute e dell'ambiente. In quei territori, dice la CGL, mettiamo tende e radici. Così le tende rimarranno aperte finché non si riuscirà ad ottenere una legge giusta ed efficace contro il caporalato e il lavoro nero, lo sfruttamento. Si metteranno le tende per affrontare la questione delle pensioni, dei rinnovi e del rispetto dei contratti. Saranno affrontate le grandi vertenze dei lavoratori e delle lavoratrici, del comparto forestale, dei consorsi di bonifica, dell'ESA e dell'ARAS. E venerdì prossimo, come dicevamo, saranno affrontati proprio a Gela, nella città del Presidente della Regione, Rosario Crocetta. È previsto un convegno dal titolo Agroalimentare di Qualità nella Piana di Gela, dalla lavoro nero al lavoro vero. Idee proposte a confronto. Presiderà l'incontro, Ignazio Giudice, segretario generale della CGL di Caltanissetta. Interverranno tra gli altri il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela, il Maggiore Valeromarra, Davide Chiarenza, segretario SIRP CGL, e Michele Pagliaro, segretario generale della CGL Sicilia. Le conclusioni sono affidate a Ivana Galli, segretario nazionale Flai CGL. Saranno presenti i sindaci di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino. Alla tenda rossa sarà anche possibile firmare, a sostegno della legge d'iniziativa popolare, sulla Carta dei diritti universali della lavoro e per i tre quesiti referendari, sull'abolizione dei voucher, l'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti e l'abrogazione delle norme che limitano le sanzioni e il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi.